Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il mio medico. Oggi iniziamo parlando di artrosi, che colpisce una delle articolazioni più antipatiche, diciamo così, il nostro ginocchio. Il 40% delle persone soffre di questa patologia, non vi dovete spaventare, anche se aumentano i casi per installare una protesi. Per oggi ci sono delle nuove tecniche mini-invasive, la cosiddetta medicina rigenerativa. Quando si può utilizzare? A tante domande risponderà il professor Rocco Papalia, benvenuto. Direttore dell'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia al Polichinio Universitario Campus Biomedico di Roma. Io ringrazio anche Rodolfo, il paziente di oggi del professore, benvenuto anche a te Rodolfo. Prima di iniziare però a parlare con il nostro ospite, il professore vi ricordo come fare, entrare in contatto con noi. Voi lo vedete in sovrappressione il numero di telefono 066508937. Vi ricordo anche il nostro contatto mail, ilmiomedicochiocciolatv2000.it. E poi i nostri social sono aperti attraverso Facebook, Twitter e Instagram. Allora iniziamo subito professore. Che cosa significa? Capiamo subito come l'artrosi colpisce le nostre articolazioni, in questo caso il ginocchio e perché provoca così tanto dolore. In tante ci hanno scritto. L'artrosi non è altro che in pratica il danneggiamento delle cartilaggini. La cartilagine è una struttura che si comporta come un guanto su una mano e quindi se vediamo il nostro modellino del ginocchio in pratica è la copertura dell'osso e non ha né nervi né basi, quindi non gli arriva né sangue né sensibilità. Quindi è una copertura che ci evita di avere dolore al ginocchio. Nel momento in cui inizia a degenerarsi, quindi i capelli bianchi delle articolazioni, ovviamente viene a trovarsi una situazione di dolore legato alla scopertura delle cartilaggini che scopre l'osso al di sotto e l'osso al di sotto fa molto male. E questo sì. Allora sfruttiamo subito il nostro Rodolfo per capire che tipo di visita deve essere effettuata. Quando un paziente lamenta appunto un dolore abbastanza molto intenso. La prima cosa da vedere è sicuramente come deambula. Quindi Rodolfo se ci fa vedere un po' la sua deambulazione verso di me e noi andiamo a notare un po' se ci sono dei deficit nel modo di camminare, dolore durante il passo e o adattamenti per non sentire dolore. È una zoppia, di solito si ha dolore e il paziente cammina con una specie di claudicazio che è una zoppia da fuga per non sentire dolore. Mettiamoci sul lettino, Rodolfo. Lo mettiamo sdraiato e andiamo a vedere un po' qual è l'asse del ginocchio perché ovviamente la cartilagine si rovina anche perché c'è un danno meccanico dell'articolazione come le ruote della macchina quando la convergenza non va. Quindi si rovina più una parte rispetto a un'altra. E poi la cosa importante è vedere se ci sono instabilità che quando la cartilagine si rovina si creano soprattutto all'interno del ginocchio. E poi andare a vedere il movimento articolare e se ci sono dei punti dolenti che di solito possono essere dovuti o a un danno sulle cartilagini o i sottostanti menischi che sono i cerchioni delle articolazioni. C'è quelle zone che dovrebbero essere di copertura fra l'osso del femore e l'osso della tibia. Oltre alla visita, è indispensabile andare dall'ortopedico, ci sono anche degli esami diagnostici da fare per scegliere anche che tipo di terapia. Perché l'artrosi immagino si misura in gradi. Ci sono dei gradi dell'artrosi da un grado meno severo che è l'iniziale danno cartilaginio fino al danno finale in cui in pratica l'osso è completamente scoperto. E questi danni possono essere visti con una semplice radiografia che deve essere fatta sotto carico. Quella che stiamo vedendo in questo momento, professore. Sì, in questo momento vediamo sulla sinistra in pratica una radiografia in cui ovviamente le ossa non sono ancora a contatto. Quindi siamo nei primi gradi dell'artrosi in cui si crea una specie di bianco come lo vediamo nella radiografia, quel bianco al di sotto dell'osso e la manifestazione è una sclerosi. C'è dell'osso che si compatta perché sta lavorando male. E sulla invece, sulle radiografie che chiamiamo Rosenberg che sono quelle sulla destra, vediamo invece una radiografia in cui le ossa si toccano. E quello è il punto di contatto doloroso che normalmente con le tecniche regenerative non va a migliorare. Per cui oltre alla radiografia c'è bisogno anche della risonanza. La risonanza ci fa vedere il danno ovviamente dei menischi e delle cartilaggini e l'edema osseo che è la manifestazione della sofferenza dell'osso perché l'osso quando va a contatto comincia a soffrire e questa sofferenza può portare a un'imbibizione che sarebbe in pratica uno stravaso di sangue all'interno della zona della spugna dell'osso perché l'osso ha una spugna all'interno. Parliamo delle novità, si sente molto parlare ultimamente in questi ultimi anni delle cellule mesenchimali, parliamo di terapie, di questa medicina rigenerativa. Che cosa sono e da dove si ricavano queste cellule che possono rigenerare addirittura la cartilagine, professore? Allora, le cellule staminali mesenchimali sono delle cellule che vengono ottenute da varie zone all'interno del corpo. le più utilizzate sono il grasso addominale o la cresta iliaca dove c'è il midollo osseo. Queste cellule sono dei messaggeri, non sono delle cellule che si rigenerano ma sono dei messaggeri che le cellule portano all'interno dell'articolazione. Il grasso all'interno, queste cellule staminali mesenchimali ma anche la presenza dei vasi, cioè del sangue, di quell'apporto nuovo, di novità che ovviamente noi dobbiamo dare all'articolazione. Perché l'articolazione quando degenera invecchia e invecchiandosi ha pochissima possibilità di andare in armonia per recuperare. Allora, mettendo all'interno dell'articolazione attraverso queste semplici infiltrazioni dopo una preparazione che si fa in sala operatoria di queste cellule attraverso il filtraggio queste cellule entrano in articolazione e cominciano a dialogare con le cellule della ginocchio con le cellule dette residenti e mandano dei messaggi dicendo riprenditi cerca di recuperare perché altrimenti la strada è una strada di... Che ci porterà poi alla protesi. Quali sono gli effetti? Gli effetti che si hanno? Ovviamente gli effetti sono degli effetti sulla funzione perché migliora, perché il dolore che è la prima cosa da combattere va via dopo qualche mese attraverso l'utilizzo di queste cellule è antinfiammatorio perché all'interno del sangue ci sono anche tutti quei messaggeri antinfiammatori che l'articolazione ha miglioramento della mobilità articolare e la rigenerazione della cartilagine sono nelle prime fasi cioè quando la cartilagine non è completamente degenerata ha ancora capacità di riprendersi allora in quel caso ha una capacità di rigenerazione Lei ha accenato, dopo quanto tempo il paziente ha dei benefici? Il beneficio immediato è un beneficio placebo cioè che non esiste il vero beneficio dell'articolazione si ha soltanto dopo alcuni mesi quando le cellule hanno finito questo compito di ambasciatore e le cellule residenti si sono riprese quindi non prima di 2-3 mesi dall'atto infiltrativo Ecco, tutta questa sorta di operazione perché comunque è un'operazione si fa in dei hospital quanto dura Supergio? Si fa in dei hospital all'onda durata di circa 30 minuti e si fa in un'anestesia locale nella zona addominale nel caso del grasso addominale più una leggera senazione come quella che si fa per altre procedure come la colonoscopia in cui per evitare al paziente ovviamente anche di vedere la sala operatoria di stare a contatto con le figure sanitarie E per voi anche per operare in tutta tranquillità In tranquillità Quindi attraverso questo dal grasso addominale vengono ricavate queste cellule che poi vengono infiltrate dopo essere state lavorate quindi è una procedura che ha una durata di circa 40 minuti In quali casi si possono utilizzare, professore? Stiamo nei gradi ovviamente primi gradi dell'atrosi oppure nei gradi finali Perché nei gradi finali? Perché quando l'articolazione non ne può più molti pazienti non riescono a fare una procedura protesica per le varie malattie che noi chiamiamo comorbidità che non permettono di andare in sala operatoria Allora, questi pazienti cosa facciamo? Quando c'è il fallimento dei vari palliativi come l'acido ialuronico o di altre tecniche di tipo rigenerativo tipo l'utilizzo dei fattori di crescita detto PRP noi possiamo utilizzare queste cellule che hanno la capacità comunque di alleviare il dolore e migliorare la funzione del paziente Certo, questo è importante In quali casi bisogna installare la protesi? Perché non c'è più nulla da fare Quando l'osso va in contatto e dal punto di vista funzionale il paziente non ne può più perché il dolore ovviamente anche dal punto di vista meccanico cambia la postura cambia il modo di camminare cominciano i mal di schiena dolore in altre articolazioni allora a quel punto è il caso di cambiare l'articolazione e mettere una protesi Noi qui al mio medico parliamo soprattutto di prevenzione professore la prevenzione è importante per evitare è vero che è un processo degenerativo per cui prima o poi tutti un po' faremo i conti con l'usura delle nostre articolazioni però per evitare per arrivarci con calma come ci dobbiamo comportare? Sicuramente fare sport perché lo sport aumenta la capacità lubrificante dell'articolazione quindi si forma più liquido sinoviale che è quello che in poi protegge le cartilagini e allo stesso tempo si possono utilizzare anche degli integratori tipo il collagene che ha una capacità ovviamente di protezione delle cartilagini o la glucosamina che è una delle proteine che sono presenti a livello diciamo delle cartilagini articolari per cui ci possono aiutare sicuramente gli integratori grazie a professor Rocco Papalia grazie per averci dato questi consigli grazie